Il progetto Vivi Marche è un'iniziativa della Regione Marche che mira a sostenere lo sviluppo e la promozione del territorio attraverso il turismo, l'enogastronomia e la valorizzazione delle risorse locali. La Regione Marche offre diversi strumenti di sostegno e incentivi per favorire lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo. Dei principali strumenti finanziari a disposizione delle aziende agricole marchigiane ci sono appunto i bandi per finanziare i progetti di sviluppo agricolo, sostenere l'innovazione e la modernizzazione delle aziende, promuovere la qualità e la sostenibilità della produzione agricola. La realtà di Mondomini offre al cittadino la possibilità di vedere realizzati nella sostanza uno di quei tanti bandi messi a disposizione dalla Regione Marche. La vista sul mare Adriatico, gli olivi secolari e la degustazione dell'olio extravergine sono stati la giusta cornice per la soddisfazione di tutti. Possiamo dire che stiamo vivendo in un'uosi felice? Sì, noi abbiamo scelto di venire a Mondomini perché è un posto con un'energia positiva, è un'uosi felice e abbiamo scelto soprattutto oggi di inaugurare una struttura che ci serve per condividere questa energia positiva e questa bellezza con la comunità della Val d'Aso, con i turisti che sono qui, sia italiani che stranieri e con tutti quelli che possono essere interessati al movimento dell'olio turismo. Qui l'oliveto si affaccia praticamente sul mare, è tutta un'altra cosa? Sì, l'oliveto si affaccia sul mare, è un'invenzione di mio marito, questa di estendere in maniera esponenziale l'oliveto secolare che c'era a suo tempo e così tanti olivi, ne abbiamo oggi 8500 rispetto ai 167 secolari che c'erano a suo tempo, sono particolari, sono particolari perché si affacciano sul mare e addirittura abbiamo scelto di piantare un oliveto in maniera un po' anomala, est-ovest e non nord-sud perché volevamo che si vedesse questa prospettiva del mare, proprio perché questa energia incredibile che viene la dà anche il mare. Sono stati importanti gli interventi della regione Marche per sviluppare ancora di più questo progetto? Sono stati determinanti, noi qui oggi stiamo celebrando in qualche modo tre linee di finanziamento, tutte agite dalla regione Marche su fondi europei, fondi di tutti noi che sono a disposizione e che abbiamo avuto la possibilità di ricevere attraverso tre bandi, due del PNRR, uno della cultura e uno del turismo e uno, si chiama PSR, quello per l'agricoltura, gestito dalla regione, sempre agricoltura. Quindi sono veramente determinanti, non avremmo fatto i lavori che vedete, questa casa tutta nuova è dovuta a questo, non avremmo fatto la struttura che vedrete e il centro di interpretazione territoriale dell'Ecomuseo della Valle dell'Aso senza questi finanziamenti. Il nostro prodotto di eccellenza è l'olio, l'olio d'oliva extravergine, coltiviamo una decina di cultivar diversi, ci sono marchigiani, ci sono italiani, ci sono quelli specifici creati per l'agricoltura intensiva e l'olivicoltura intensiva e sono lavorati e cresciuti con grande amore e con la possibilità effettiva di realizzare oli di eccellenza, ma non dovremmo essere noi a dirlo, dovrebbero essere chi li assaggia e chi li gusta a dirlo. Quindi l'affaccio di questo oliveto sul mare Adriatico è merito suo? È merito mio ed è anche un po' contro tendenza rispetto a quello che dovrebbero essere proprio i canoni dell'olivicoltura. Però era talmente bello l'idea di vedere questi filari che si perdono verso il mare, che è stata troppo grande la tentazione di seguire questa indicazione est-ovest. Il turismo è una grandissima iniziativa, una meravigliosa iniziativa della regione Marche ed è, noi l'abbiamo colta a piene mani e in particolare noi riteniamo che questa sia una enorme opportunità per riuscire a valorizzare tutti quanti quei prodotti che in particolar modo nella nostra area, quindi la Valdaso, si riescono a coniugare bene con questo ingrediente. Facciamo dire anche grazie alla regione Marche, questi tanti finanziamenti che sono stati messi in campo e a volte sono tante parole e pochi fatti, qui possiamo raccogliere i fatti. Sì, mi piace questa definizione che hai dato. Noi credevamo e crediamo ancora nella possibilità di creare un qualche cosa di alta qualità, quindi di utilizzare al meglio le risorse finanziarie che ci sono state date dalla regione Marche per creare qualche cosa che poi possa essere apprezzato sia dai turisti italiani ma anche dai turisti stranieri. Io rimango sempre molto stupito dal fatto che ogni turista straniero che viene da noi rimane favorevolmente colpito da quello che vede qui ma soprattutto da quello che vede nella regione Marche che per me che sono una persona che viene da fuori ritengo che sia un qualche cosa di unico nel nostro paese. La vostra struttura cosa offrirà al turista? La nostra struttura già offre al turista tre appartamenti dove le persone possono venire, sono tre appartamenti indipendenti dove si gode di una grandissima privacy, di un meraviglioso panorama a 360 gradi, una vicinanza alle tutte le strutture ricettive della zona, quindi parliamo di stabilimenti balneari, di chalet, di ristoranti e di altri musei, di tutti quanti i borghi che sono intorno a noi e con l'endoturismo noi immaginiamo di poter offrire qualche cosa di più soprattutto in termini enogastronomici, quindi di poter offrire uno dei elementi più importanti dell'Italia che è la cucina. Con pane e olio garantito tutto il giorno? Il pane e olio sì, il pane e olio è una delle cose più semplici ma credo più buone che una persona possa apprezzare. Più finanziamenti che hanno concorso a realizzare questa magnifica attività di fatto che è composta da un ecomuseo, una bottega di vendita, una casa colonica, più di 8.000 piante di olivo, alcune delle quali storiche. Credo che quando c'è la capacità di sapere utilizzare bene i fondi poi i risultati arrivano. Non è finito perché mi auguro che partecipino, ma sono certo anche alla prossima legge che abbiamo emanato recentemente con il bando annesso entro il 15 di agosto sull'olio turismo. Sicuramente potranno avere l'occasione di incrementare tutta una serie di attività che si offrono al turista rispetto appunto alla conoscenza dei luoghi di produzione dell'olio. L'olio turismo è un'altra di quelle battaglie della regione Marche? Sì, praticamente parliamo di diversificazione in agricoltura. Soprattutto in questo momento quando l'agricoltura, il prodotto agricolo ha sofferto nel 2023 per cambiamenti climatici, ci sono state proprio delle produzioni che hanno sofferto tantissimo, allora è importante attivarsi su altre possibilità di introiti per le aziende e quindi si parla di diversificazione in agricoltura. Quindi l'azienda agricola che si sposta e guarda anche all'offerta turistica. Abbiamo visto che sta funzionando molto bene con la legge dell'enoturismo, dare alle cantine la possibilità di fare turismo, far conoscere le proprie cantine, fare accoglienza, somministrazione di cibi, bevande al turista e la stessa cosa fra un po' inizieremo e siamo tra le primissime regioni in Italia a farlo per l'olio turismo. L'importanza di questa serata, di questa giornata per lo sviluppo di questo territorio? Direi che è un passaggio, oserei dire, fondamentale, perché qui ci troviamo nella Valle dell'Aso. Qui alcuni anni fa abbiamo costituito una rete tra ben 12 comuni, prologo, associazioni e oggi inauguriamo il primo centro di interpretazione territoriale, in questo caso specifico sull'olio extravergine d'oliva, all'interno di un'azienda privata. Mondomini è la prima azienda privata che entra a far parte dell'associazione Ecomuseo e quindi per questo dico che è un passaggio importante, perché il coinvolgimento del privato ci consente di fare quell'ulteriore passo, quello step successivo che va dalla promozione che possono fare gli enti e le associazioni all'accoglienza nelle strutture rigettive che abbiamo sul territorio. Ad enti e associazioni aggiungerei anche la regione, che è molto vicina in questa fase. Assolutamente, la regione bisogna fare un plauso perché, come ho già detto anche in sede di saluti davanti al potere Mondomini, sta seguendo molto attentamente alcune dinamiche che ci sono sul territorio. Ci sono vicini, nel 2002 è stata approvata una legge regionale con dotazione finanziaria, quindi in bilancio, proprio per gli Ecomusei. Ci troviamo in una struttura cofinanziata dalla regione Marche, quindi direi che stiamo facendo un percorso insieme molto molto importante. Secondo lei l'olio turismo potrà viaggiare pari passo se non superare l'enoturismo? Sono due mondi che lavorano su concetti diversi e questa cosa viene fuori in ogni momento. L'olio turismo ha un approccio molto culturale, molto profondo sulle tradizioni e proprio sul modo di fare delle persone che hanno contribuito appunto alla cultura dell'olio nel nostro territorio come in tutti gli altri territori dove si fa olivicoltura e dell'aiotecnica. E quindi la legge mira proprio a trovare quella chiave per la lettura del territorio in senso culturale, in senso proprio della ricerca delle tradizioni e delle particolarità di ciascun territorio. Un esempio di questi per esempio è appunto l'albo degli olivi secolari che penso sia un'unicità tra le leggi dell'olio turismo in Italia. Ad oggi mi sembra, dai ultimi confronti che abbiamo fatto, che ce l'abbiamo solo noi. Gli olivi che ne faranno parte non saranno solo secolari, avranno una datazione genetica come è normale che sia, ma sarà necessario che intorno a ciascuno di essi ci sia almeno un mito, una leggenda, una storia da poter raccontare. Proprio per raccontare la storia di una civiltà, la storia di un popolo che nei secoli appunto ha costruito la civiltà che siamo oggi. Questa è la legge dell'olio turismo. Beh, un goccio d'olio su due maccheroncini è la morte sua. Assolutamente sì, come abbiamo visto e come chiunque potrebbe assaggiare è qualcosa di meraviglioso. Il maccheroncino abbinato all'olio extravergine oliva di qualità è qualcosa da provare assolutamente. A crescere ancora di più il turismo in questo territorio, soprattutto in questa stagione. Assolutamente sì ed è anche l'obiettivo dell'ecomuseo, quello che si prefigge l'ecomuseo, la valorizzazione dei prodotti di qualità che abbiamo e che dobbiamo riuscire a sponsorizzare e pubblicizzare adeguatamente.